Ho contatti perché quando andiamo in questi posti qui, in queste riabilitazioni, insomma ci accomuna un po' la malattia e quindi poi rimaniamo in contatto, anzi il nostro amico ha fatto anche il pubblico dei pneumossigenati su Facebook, per cui invito tutti a andarci perché ci si passano le informazioni, come stai, come ti senti, oggi ho tenuto l'ossigeno meno, sono riuscita a tagliare il bosco piuttosto che a portare fuori mio nipote, sono dei piccoli passi che incoraggiano anche gli altri, perché insomma la depressione c'è un po' in tutti per forza, cioè uno fa la doccia e si dimentica quello che ha o se no duri fatica a fare le cose, quindi ce l'hai sempre presente, lo vivi di… ecco, per cui c'è chi meno, certo chi ha aiuti, chi ha cose, lo peserà meno la malattia, però pesa comunque, ho visto a tutti. Beh, io farei, se avessi un gruppo di persone, cercherei appunto di organizzare la nostra attività fisica, di incontrarci in un parco, di passeggiare, di fare movimenti, insomma questo lo farei molto volentieri, però non è facile, perché non è facile. Grazie a tutti.